Bassano al buio no non è un evento estivo e soprattutto non è purtroppo una novità alcuni telespettatori ci hanno segnalato come alcune strade del centro storico siano completamente buie un problema per la sicurezza dei residenti e visto i casi sempre più diffusi di furti in abitazioni del territorio di certo ai bassanesi piacerebbe vederci chiaro in tutti i sensi